La Calabria nella stanza dei bottoni dell'impresa a livello nazionale. Può essere vista così l'elezione del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algeri, nel Comitato Esecutivo di Union Camere Nazionale, a deliberare è stato l'organo assembleare riunitosi per eleggere i nuovi organi che saranno in carica per il prossimo triennio. Una nomina che gratifica Algeri per il lavoro svolto, che lo ha portato a divenire prima Presidente della Conf Commercio Cosenza, poi un anno fa Presidente della Camera di Commercio Bruzia. E' grande soddisfazione ed orgoglio è stata espressa anche da Conf Commercio Cosenza attraverso la propria pagina Facebook. Siamo sicuri, si legge nella nota, che le energie e la capacità del Presidente Algeri potranno aiutare a scorgere nuovi percorsi di sviluppo e crescita economica per le imprese del territorio. Union Camere dunque parla molto meridionale. La nomina di Algeri arriva dopo elezione a Presidente del siciliano Ivan Lobello e quella di Maurizio Maddaloni al Vicepresidente per il Mezzogiorno.